buon pomeriggio mi sentite bene allora possiamo cominciare provo a parlarvi di cose che hanno a che fare con la coscienza ma in una maniera un po indiretta qualche settimana fa mi ha telefonato il professor boncinelli che tutti conoscete il famoso genetista e divulgatore che aveva visto una cosa che aveva scritto su un giornale mi dice ma giorgio cos'è sta mania che ti è venuto di occuparti di coscienza e dico guarda dado in realtà non so se sai ma occuparsi di coscienza e la malattia senile dei neuroscienziati cioè ci occupiamo di cose serie per un bel po di tempo nella vita che so di imprinting di memoria nel mio caso poi arriva un momento una certa età in cui ci sentiamo in dovere di sproloquiare sulla coscienza e ovviamente io non sono esente dalla morbo però volevo dirvi in una maniera un po così personale come ci sono arrivati quali sono stati passi che mi hanno fatto riflettere su questi temi il primo è una vecchia storia che mi aveva molto colpito che la conoscete la conoscerete immagino la raccontata oliver sachs di un paziente un musicista e musicologo si chiama clive wearing che a seguito di una encefalite causata dal virus dell'herpex subì un danno veramente molto grave esteso al cervello e oltre ad avere le usuali forme di amnesia anterograde e retrograde quindi incapacità di ricordare gli eventi precedenti e successivi all'evento traumatico aveva in più una forma molto grave di disordine della coscienza che potrebbe essere descritto come la condizione di essere continuamente risvegliato provate a pensarci voi alla mattina vi svegliate vi alzate c'è un momento una transizione magica tra il momento in cui non ci siete siete altrove per così dire non siete neanche in esistenza non provate niente il momento in cui vi svegliate siete lì di nuovo con la vostra coscienza ora provate a immaginare una condizione in cui è sempre così con brevi intervalli qualche minuto siete sempre di risvegliati per così dire ci sono i diari di questo musicista che sono impressionanti perché gli è stato chiesto di tenere un diario e vedete che che so alle nove del mattino comincia a scrivere adesso sono sveglio dopo qualche istante scrive di nuovo no no adesso sono sveglio passa qualche istante dice no adesso sono indubitabilmente sveglio c'è un documentario del 2005 visibile in rete piuttosto impressionante in cui vanno a intervistarlo ci sono due cameraman e una intervistatrice lui dice siete i primi esseri umani che vedo voi tre due uomini e una signora le prime persone che vedo da quando sono malato ovviamente non è vero non era così nessuna differenza tra il giorno e la notte nessun nessun pensiero nessun sogno giorno e notte lo stesso vuoto proprio come la morte ti manca la tua vecchia vita sì ma non sono mai stato cosciente di pensarlo quindi non mi sono mai annoiato sconvolto non sono mai stato niente esattamente la stessa cosa della morte nemmeno sogni giorno e notte lo stesso quando ti manca la tua vecchia vita e dici sì mi manca la mia vecchia vita che cos'è che ti manca il fatto dice che fossi un musicista e innamorato certi aspetti della memoria rimangono quelli procedurali per esempio no lui continuava a essere capace di suonare secondo momento così magico e topico per quel che mi riguarda è stato molti anni fa aver letto su science un articolo era in realtà un pezzo giornalistico di Roger Lewin che riferiva alcune ricerche che stava conducendo un pediatra inglese di Sheffield Lorban e il titolo era abbastanza inquietante diceva is your brain really necessary il vostro cervello è davvero necessario e questo pediatra descriveva i casi di pazienti affetti da idroencefalia questi pazienti hanno un allargamento dei ventricoli cerebrali molto grandi vedete questo è un cervello normale in cui potete riconoscere i soliti 4-5 cm di spazio occupato dal cervello in questi invece tutto lo spazio è occupato dei dei ventricoli e praticamente il pallio si riduce ad una striscia molto sottile a volte di qualche millimetro ma la cosa sorprendente è che lui aveva descritto uno di questi pazienti un giovane studente a Sheffield poco più che ventenne uno studente di matematica con cui spaventoso più di 120 e una vita assolutamente normale che aveva anziché l'usuale corteccia un millimetro circa di spessore di cervello ovviamente possiamo cercare di immaginare o di dare una spiegazione dire forse la materia grigia i corpi cellulari sono tutti concentrati ma ci sono il problema è quel che c'è sotto la materia bianca le fibre forse queste sono incredibilmente compresse o riarrangiate non lo sappiamo ma certo tutto questo da un po' da pensare e poi c'è anche e non c'entra granché se volete con i cervelli visti in questi termini una storia di un mio fallimento personale da ragazzino avevo visto queste bestiole forse qualcuno di voi le conosce o le ha viste qualche volta nel terriccio in giardino che sono i formicaleoni che sono degli insetti che quando sono allo stadio di larve costruiscono degli imbuti poi si posizionano in fondo e catturano le formiche che cascano dentro e per fare meglio questa cosa fanno anche dei lanci di sabbia muovendo il capo fanno dei getti che quindi è un caso più unico che è raro di uso di strumenti in una larva di un insetto l'insetto adulto è quello che vedete qua lo soviglia a una libellula vive molto poco quando diventa adulto in realtà è di un'altra famiglia le libellule sono donati loro sono neurotteri ma mi incuriosiva molto il meccanismo di costruzione del cono loro fanno dei cerchi concentrici e poi si muovono un po' a spirale ma fanno anche ogni tanto degli attraversamenti attraverso il diametro cambiando di direzione io dico ma c'è un algoritmo facile che spiegano il comportamento di queste creature semplici e chiesi al mio mentore all'epoca di poter fare la tesi di laurea su questo che era un nettologo dell'Università di Padova e diceva va bene dopo qualche mese non cavavo un ragno dal buco per cui ho lasciato perdere sono passato paradossalmente a occuparmi di cervelli molto più grandi questi nessuno ha fatto una misura ma io stimo grossomodo sulla base di altre specie che potrebbero avere le larve di formicaleone centomila neuroni se va bene le descrive tra l'altro leopardi recentemente è stato ristampato un suo libricino di storia naturale di quando aveva 17 anni quindi evidentemente i formicaleone attirano l'attenzione a una certa età e lui li chiama Mirmico Leoni nel suo scritto ah beh se volete avere un'idea li abbiamo ripescati in laboratorio recentemente cioè uno dei miei collaboratori giovani ne ha visto uno che tengo come pet sulla scrivania e ha detto ma dai proviamo a riprendere a lavorarci qui vedete accelerato la fase di costruzione del cono dell'imbuto la profondità non viene resa molto guardandolo da sopra però questa storia della grandezza del cervello dei neuroni e di quello che un animale sa fare ci dà un po' da pensare perché vi sarà capitato di vedere queste immagini è stata riprodotta in molti libri di divulgazione scientifica riproduce una specie di uomo mostruoso che ha il posto dell'occhio a camera dei vertebrati l'occhio composto gli insetti hanno degli occhi diversi dei nostri che sono fatti di tante faccette individuali forse le avrete notate guardando i più grandi e ciascuna ha il proprio sistema di otterico il proprio sistema di recettori sono occhi che vanno molto bene per rilevare il movimento come avrete notato se cercate di catturare una mosca ma che hanno scarsa risoluzione spaziale cioè non hanno una grande acquità visiva e questo signore qua questo studioso ha provato a immaginare quanto dovrebbe essere un occhio composto di mosca se noi avessimo occhi di quel tipo lì per avere la stessa acquità che ha il nostro occhio dovremmo andarcene in giro con una cosa mostruosa però questa immagine in un certo senso ingannevole perché ci fa credere che una cosa come l'acuità visiva dipenda semplicemente dal recettore periferico dall'occhio ma non è così cioè non basta avere un occhio composto con tanti ommatidi e di un diametro e di un metro di diametro dietro ci dovete mettere a cascata tutto il sistema di neuroni che elaborano il segnale quindi quello che voglio dire è che attività che possono sembrare come dire poco intelligenti umili come per esempio avere una buona risoluzione spaziale vederci bene in realtà richiedono un sacco di neuroni quindi dovremmo ripensare un po' la questione del numero dei neuroni alla possibilità che averne tanti non dà direttamente la misura di quel che è necessario per quelle che chiamiamo attività mentali o cognitive complesse consideriamo una cosa che sembra molto più complicata e sofisticata che non la mera acuità visiva per esempio la capacità di discriminare quadri di Monet da quadri di Picasso si è diventata una ricerca molto famosa ne avrete sentito parlare è molto facile insegnare alle api a fare questa discriminazione si fa così prendiamo un certo numero di esemplari di immagini di Picasso e di Monet diciamo 10 come quelle che vedete in questa colonna qua quindi 5 e 5 le disponiamo a coppie in ogni coppia c'è un Monet e un Picasso e tutto quello che l'ape deve fare è imparare a discriminare queste coppie quindi supponiamo un gruppo di api si impara a scegliere il Monet tutte le volte che si posa sul Monet trova un ciotolino d'acqua zuccherata se si posa su Picasso acqua senza zucchero e lo fa per questa coppia questa, questa, questa e questa come potete immaginare le api imparano molto facilmente una discriminazione di questo tipo e non è che ci sorprenda perché per noi sono Monet e Picasso ma dal loro punto di vista sono una cozzaglia di colori e di forme quindi è come riconoscere che so una margherita da un papavero dal punto di vista di un'ape però la domanda è che cos'è che hanno imparato davvero? cioè hanno imparato a riconoscere i singoli esemplari individuali quindi hanno imparato che in questa coppia supponiamo questo è giusto in questa coppia questo è giusto eccetera eccetera ovviamente la posizione destra e sinistra veniva cambiata nell'esperimento a caso oppure hanno imparato qualcosa di generale cioè hanno imparato davvero a riconoscere quadri di Monet e quadri di Picasso per saperlo prendiamo dei nuovi esemplari di immagini dei due pittori queste che vedete qua e riproponiamo delle coppie fatte ancora di un Monet e di un Picasso ma che l'animale non ha mai visto fino a quel momento e non procediamo ad un riaddestramento gliele presentiamo d'amblè e vediamo se la prima volta che le facciamo vedere immediatamente l'ape fa la cosa giusta ci aspetteremo che rispondano a caso perché queste coppie non le hanno mai viste e invece no non rispondono a caso senza premio senza rinforzo differenziale acqua zuccherata quelle che hanno imparato a scegliere Monet continuano a scegliere Monet quelle che hanno imparato a scegliere Picasso continuano a scegliere Picasso quindi non ditelo al nostro illustre studioso non so se fosse anche lui ospite di Torino spiritualità ma questi dati suggeriscono che non ci vogliono poi tanti neuroni tanto cervello per fare il critico d'arte sto scherzando non vorrei incorrere nelle ire di Vittorio ma sto scherzando in questo senso evidentemente la distinzione tra Monet e Picasso così come la conduce un esperto un conoscitore ha a che fare con gli aspetti semantici e cioè con gli aspetti relative alla storia culturale eccetera che chiaramente le api non posseggono qui la discriminazione è puramente percettiva ma non è che sia meno interessante perché in molti casi noi facciamo qualcosa di simile cioè distinguiamo uno stile di un qualche tipo senza però essere capaci di dire come lo facciamo cioè essere capaci di verbalizzarlo farvi un esempio io che non sono un esperto se mi fate vedere come mi è accaduto un certo numero di quadri di ragazze dipinte da modigliani dopo un po' se me ne fate vedere uno lo riconosco perché le ragazze modigliani hanno tutto il collo lungo quindi c'è una caratteristica molto specifica che ti consente di individuare lo stile lì ma in altri casi magari una caratteristica non c'è cioè c'è evidentemente ma è un insieme una famiglia di caratteristiche che utilizziamo e che ti fa dire ah questo mi sembra un Picasso ma perché non sapresti dire esattamente perché è un colpo d'occhio ed è quello che sta usando l'ape effettivamente è interessante che queste forme di categorizzazione di formazione dei concetti le api riescono a maneggiarle con un numero molto molto ridotto di prove consideriamo un esempio classico di concetto che è considerato insomma un pinnacolo della nostra vita mentale comprendere per esempio il concetto di uguale diverso non semplicemente nel senso di riconoscere tra due stimoli che sono diversi l'uno dall'altro ma imparare il concetto di uguale diverso per esempio l'ape entra in una cameretta come vedete qua e vede supponiamo un disco giallo e la regola in questo test è per esempio scegli l'eguale oppure scegli il diverso non importa possono imparare tutte e due le versioni quindi dopo essere entrato e aver visto il disco giallo tu devi scegliere c'è un labirinto a Y da una parte c'è un disco giallo e dall'altra parte c'è un disco blu la regola è scegli l'eguale quindi in questo caso disco giallo ti da il premio se scegli il disco blu niente premio dopodiché uso uno stimolo diverso per esempio arancione e poi arancione e marrone la risposta giusta è arancione scegli l'eguale eccetera eccetera gli animali riescono a fare questo e poi generalizzano a stimoli mai veduti prima addirittura generalizzano quando cambiate le caratteristiche visive per esempio passate dal colore all'orientazione dello stimolo quindi le addestrate con dei colori e poi all'improvviso gli fate vedere strisce orizzontali e poi la scelta è strisce orizzontali o strisce verticali la risposta giusta è strisce orizzontali cioè l'eguale a quello che hai appena visto e addirittura anche quando cambiate la modalità sensoriale le avete addestrate a scegliere l'eguale con i colori e a un certo momento gli fate sentire un profumo profumo di ciclamino e poi ciclamino menta la risposta giusta è ciclamino e loro generalizzano ma lo fanno con pochissime prove cose tipo una decina di prove di addestramento quando ad esempio le antropomorfe, le scimmie cioè animali molto più simili a noi e animali che posseggono cervelli molto grandi sono dimenticato di dirvi e di darvi un'idea dell'ordine di grandezza di cui stiamo parlando il cervello di un'ape contiene 960 mila neuroni nel ganglio encefalico non arriva neanche a un milione le stime attuali per il nostro cervello sono di 86 miliardi di neuroni quindi una differenza enorme vi faccio vedere un esempio di quel che facciamo noi in laboratorio come per farvi vedere qualche cosa di dinamico noi per esempio ci siamo chiesti se le api sanno trasferire dal discreto al continuo una cosa un po' da matematici sofisticati cioè se le addestrano a discriminare delle numerosità dei quadratini in numero diverso e questi quadratini hanno dimensioni ogni posizione eccetera differente e loro devono imparare ad andare dove ce n'è di più quando io gli faccio vedere delle numerosità uguali ma di grandezza diversa cioè di estensione diversa sono capaci di generalizzare cioè voi avete imparato di più con i numeri se adesso ti faccio vedere un quadrato grande e un quadrato piccolo riesci a capire che devi andare dal di più spaziale cioè dal quadrato più grande e la risposta è che ci riescono molto bene quindi questo è un esempio dell'esperimento qui l'ape è addestrata a distinguere 2 da 3 e 2 il più piccolo è rinforzato poi gli facciamo vedere 2 e 2 stessa numerosità e vedete che va dalla più piccola dimensionale cioè da quelli che sono più piccoli oppure in questo caso al contrario 4 e 6 tu devi andare dal 6 dal più grande poi ti faccio vedere 6 e 6 stessa numerosità ma di grandezza diversa e vedete che l'ape va da quelli che sono più grandi perché hai imparato ad andare dalla numerosità più grande ora come possiamo spiegare una cosa così misteriosa in realtà se ci pensate bene non è davvero misteriosa e cioè se voi avete pochi neuroni come è il caso di un'ape è assolutamente indispensabile formare concetti e categorie più di quanto non lo sia per individui che hanno molti neuroni che è un po' un rovesciamento se volete di quel che pensiamo di solito no? perché? perché formare concetti o categorie che cosa che vuol dire? vuol dire essenzialmente formare quello che i matematici chiamerebbero classi di equivalenza cioè trattare una serie di individui che sono diversi tra di loro come uguali ai fini di una certa risposta quando io dico cane come concetto cosa che sto dicendo? sto dicendo che tutti i cani individuali che conosco e che sono così diversi nella morfologia il pastore tedesco che aveva mia mamma l'alano della mia vicina il barboncino pestifero che abbaia tutte le mattine sotto la mia finestra che sono così diversi sono tutti cani cioè sono tutti esemplari di quella categoria per la quale applico regole generali tipo il guinzaglio una passeggiata giornaliera eccetera eccetera questo è molto importante e molto utile dal punto di vista dell'economia cognitiva per i nostri cervelli se avete pochi neuroni non potete permettervi il lusso di memorizzare tenere in memoria un gran numero di individui avete bisogno delle classi, delle categorie pensate al racconto famosissimo ma che viene spesso interpretato in una maniera diversa di Borges Funes il memorioso il ragazzo che non dimenticava niente caso inventato ma ci sono i permnesici di persone che non dimenticano niente Funes quando vedeva il tralcio di una vite era come dire sommerso da tutti i ricordi e dalle associazioni possibili con tutti i tralci di vite che aveva visto nel corso della sua esistenza e tutti erano unici, speciali e non riusciva quindi a concepire per esempio dice Borges come il cane delle 3-14 fosse lo stesso delle 16-18 lo stesso cane perché lo stava vedendo con un'angolazione diversa per esempio quindi è un lusso in un certo senso quello di non far concetti e di usare i dati individuali ma è un lusso che ha a che fare con la memoria non con la capacità di pensiero in quanto tale e questo faccenda che molta della differenza che noi attribuiamo diciamo così ai processi di pensiero tra forme e animali diverse sia in realtà una differenza di memoria lo si vede molto bene nel caso del riconoscimento delle facce le api sono capaci di distinguere le facce umane a discriminarle per esempio sono anche capaci di interpolare di riconoscere facce che hanno che vedono con angolazioni diverse come nella figura che state osservando che è una cosa che è difficile anche per i bambini per esempio fino ad una certa età uno dice cosa se ne fa l'ape della capacità di riconoscere le facce umane niente presumibilmente nell'alveare le api stanno al buio e quindi non usano indicatori visivi per riconoscere le compagne usano eventualmente stimoli olfattivi chiaramente riconoscono i visi usando gli stessi meccanismi che impiegano per riconoscere durante quando sono bottinatrice riconoscere i fiori lo stesso tipo di meccanismi ma qual è la differenza e com'è possibile che un cervello da 960.000 neuroni faccia queste cose noi abbiamo nel cervello un'area piuttosto grande che si chiama girofusiforme dedicata al riconoscimento dei volti e lì ci saranno milioni di neuroni presumibilmente ora il punto è questo una cosa è discriminare due volti il meccanismo la capacità mentale di fare la discriminazione e questa ce l'ha l'ape e sappiamo dai modelli di rete neurale artificiale che per fare questo un paio di centinaia di neuroni sono sufficienti quindi ci stanno nel cervello di un'ape qual è la differenza rispetto alla condizione umana non è una differenza come dire di CPU è una differenza di memoria di massa noi abbiamo bisogno per via della nostra vita di relazione l'ape no di tenere in memoria un gran numero di facce individuali si stima che una persona adulta media ne ricordi circa 5.000 un'ape probabilmente non lo sa fare ma non lo sa fare non perché è meno intelligente meno dotata semplicemente non ha per quello che riguarda questo aspetto della cognizione non è una memoria sufficientemente ricca non ha abbastanza neuroni per fare una cosa di questo tipo allora mi sono un po' dilungato su questa faccenda del numero dei neuroni eccetera perché volevo arrivare a un punto io mi sono convinto per quello che riguarda la questione della coscienza che questa idea che circola e che è diffusa tra la maggior parte dei miei colleghi che la coscienza debba emergere un po' magicamente una volta che il cervello è sufficientemente grande probabilmente è sbagliato io credo che sia proprio sbagliato il meccanismo che deve essere alla base della consapevolezza della coscienza deve essere semplice e probabilmente abbiamo varie prove di questo non richiede tanto tessuto cerebrale innanzitutto di cosa stiamo parlando beh coscienza voi sapete è un termine polisemico cioè vuol dire un sacco di cose per studiosi tipo diverso quindi se chiedete che so visto che siamo in tema di spiritualità un teologo vi dirà vi parlerà che so della coscienza morale se chiedete a un anestesista vi parlerà del paziente che ha perduto la coscienza che poi l'ha recuperata magari però c'è un senso molto basilare che il problema cui sono interessati i neuroscienziati quello che a volte viene chiamato hard problem il problema duro che è facile da capire e non ha a che fare con le definizioni questa storia che dobbiamo preoccuparci perché non abbiamo una buona definizione della coscienza diciamo una stupidata tutti sappiamo cos'è la coscienza e tutti sappiamo quanto è importante che cos'è è avere esperienza sentire qualcosa provare qualcosa io guardo lì e vedo questo tavolino che è di un colore giallo verde tocco e sento duro parlo e sento la mia voce che rimbomba grazie al microfono e tutte queste cose hanno una qualità la verdità del tavolo l'ecoità del suono che sto sentendo la durità del tavolo che ho appena toccato tutte queste cose riusciamo a capire che cosa sono se le riferiamo a condizioni in cui non ci sono guardate questa frase molto sarcastica l'ha detta qualche anno fa un famoso studioso che si chiama Stuart Sutherland dice la coscienza è un fenomeno affascinante ma illusivo è impossibile specificare che cosa sia che cosa faccia o perché si sia evoluta su di essa non è stato scritto nulla che valga la pena di essere letto oggi a 30 anni e più di distanza non è che la la situazione sia molto cambiata però alcune cose le abbiamo imparate una cosa che abbiamo imparato per esempio è appunto che la gran parte della nostra vita mentale non è accompagnata da coscienza cioè noi viviamo il 90% del tempo col pilota automatico si possono fare molti esempi di questo anche non relativi alla patologia ma è nella patologia che questo lo si vede proprio bene bene e il caso più eclatante secondo me è rappresentato da questa storia che ha avuto origine da esperimenti sugli animali questa che vedete qua una scimmietta famosa per la scienza che si chiamava Helen Helen è stata studiata perché il professore che si occupava del problema Weisskranz a Oxford era interessato al recupero di funzioni dopo lesioni alla corteccia visiva e quindi la scimmietta aveva subito una lesione bilaterale completa qui dietro delle aree occipitali quindi era corticalmente cieca come si usa dire l'occhio funzionava il nervo ottico eccetera però la parte finale terminale non c'era più e quindi era cieca però lo studente di Weisskranz per quasi sette anni se l'è portata in giro e vedete che razza di recupero mostra addirittura il punto da raccogliere piccole noccioline gettate sul tavolo non dà l'impressione di essere una una scimmia cieca no? proprio per niente però Nick Humphrey che ha descritto per primo questo caso dice anche queste cose qua la scimmietta le faceva se poteva farle in una condizione come dire di rilassatezza estrema come se lo facesse senza pensarci su per così dire perché era sufficiente che ci fosse qualcosa nell'ambiente che la disturbava la turbava o d'altro per farla ritornare riprecipitare nella condizione in cecità quindi riprendeva a sbattere contro gli oggetti eccetera che cosa è che succedeva? beh è difficile eh dirlo con con un animale che non sa parlare perché non glielo possiamo chiedere quindi il passo successivo è stato quello di eh vedere che cosa succede nei pazienti umani in questo caso la lesione non viene prodotta intenzionalmente ma come sapete capita per accidente di solito un qualche tipo di incidente cardiovascolare che le persone abbiano una porzione piccola o grande di corteccia visiva lesionata in corrispondenza alla lesione c'è quello che viene chiamato uno scotoma cioè un'area del campo visivo in cui il paziente non vede niente voi proiettate qualcosa in quell'area gli chiedete cosa vedi lui dice niente non vedo niente assolutamente niente allora l'idea che hanno avuto dopo l'osservazione con Helen è stato di dire vabbè proviamo a forzarli un po' i pazienti proviamo a chiedergli di tirare e indovinare no? un po' come faceva Helen quando era come dire distratta e non ci pensava su quindi guarda si dice il paziente adesso ti faccio vedere un lampo di luce un flash e questo potrà essere in alto o in basso nel tuo scotoma e tu col dito mi devi dire dov'è il paziente protesta e dice dottore non vedo niente quindi cosa mi chiedi questa cosa assurda e allora lì dovete un po' negoziare dirgli ma dai provi che ti costa dire a indovinare il paziente un po' seccato lo fa e ci azzecca praticamente sempre ci azzecca soprattutto se viene richiesto un qualche tipo di comportamento visuomotorio per esempio se voi gli fate vedere nello scotoma cieco un oggetto elongato per esempio questo microfono disposto verticalmente no? così oppure lo stesso oggetto sempre nello scotoma disposto orizzontalmente così e gli dite prendi l'oggetto prendi quello che vedi e il paziente dice non vedo niente ma dai provate a immaginare no? vi chiedono di prendere una cosa che per voi non c'è non esiste cioè non è fenomenicamente presente protestate vi arrabbiate però quando alla fine per far contento sto rompiscatole lo fate vedete che la mano si atteggia correttamente questa è una cosa come potete capire molto interessante no? perché suggerisce che il vecchio argomento filosofico dello zombie e cioè della creatura che sa fare tutto quel che c'è da fare nel mondo cioè che si comporta in maniera adeguata si sposta cammina non urta gli oggetti li prende si nutre si riproduce eccetera ma senza che nulla di tutto questo sia sentito che lui o lei provi qualche cosa è in linea di principio possibile per esempio potrebbe essere la condizione degli altri animali di tutte le altre specie per quel che ne sappiamo ovviamente l'evidenza che viene dal blind site è molto indiretta se volete è molto parziale no? perché quelle persone lì hanno un deficit limitatamente una piccola porzione del campo visivo e solo in quella modalità sensoriale quindi quel paziente è perfettamente conscio e consapevole per tutti gli altri stimoli acustici olfattivi eccetera eccetera però non di meno la storia fa pensare anche perché i casi estremi di blind site sono davvero spettacolosi questo lo conoscete probabilmente perché è stato studiato da un vostro concittadino è un amico Marco Tamietto che con Weiss Kranz ha studiato il caso di un paziente che ha una lesione molto estesa nella corteccia occipitale è praticamente cieco e loro hanno fatto questo giochetto di mettere lungo un corridoio una serie di oggetti disposti a caso quindi non è che lui potesse averli memorizzati prima e guardate che cosa fa quello che vedete dietro con la barba è il professor Weiss Kranz che era ancora vivo che lo segue perché ha paura ovviamente che inciampi e che possa cadere vedete che lui si muove si sposta un po' come faceva Helen evitando di urtare gli oggetti e facendo manovre anche complicate ma se gli chiedete perché lo stai facendo lui dice non lo so io non ho visto niente è come se sentisse di doversi comportare in quel modo lì ma non ha visto niente non ha percepito niente non c'è nulla nel suo teatro della consapevolezza come direbbe Dennett allora il problema come potete capire questo punto è perché diavolo perché diavolo ce l'abbiamo la coscienza e la consapevolezza perché se in linea di principio potremmo fare tutto quel che c'è da fare senza no? a che cosa che cosa serve avere esperienza fenomenica sentire provare qualcosa e poi soprattutto come si produce cioè com'è possibile che gli eventi fisico-chimici che avvengono nel cervello diano luogo a quelle cose lì che sembrano incommensurabili la giallità di un colore la mentità di una foglioletta di menta piperita che hanno una qualità una caratteristica che non si riesce a capire come possa essere ascrivibile alle proprietà fisico-chimiche del funzionamento del sistema nervoso allora come potete immaginare la risposta a questa domanda io non ce l'ho quest'ultima se ce l'avessi sarei in volo per Stoccolma non a Torino ma a parte questo però ho provato ad aggirare il problema diciamo così cercando di riflettere su una problematica alter correlata diciamo così no? è difficile capire in che modo il cervello produca la qualità dell'esperienza possiamo cominciare chiedendoci quando e perché è nata questa cosa qua cioè perché a un certo momento c'è stato questo trucchetto che sembra aver inventato l'evoluzione biologica perché si è reso necessario? allora io credo penso ma con altri che si sia reso necessario quando gli organismi hanno cominciato a muoversi in maniera attiva che è successo molto tempo fa probabilmente nel Cambriano quindi in una maniera fondamentalmente diversa per esempio dal tipo di movimento che voi vedete che so nelle piante no? che non è solo un problema di velocità è proprio ha una qualità diversa rispetto a quella che posseggono gli animali e d'altra parte che il cervello sia stato inventato per il movimento per consentire agli organismi biologici di muoversi è una cosa che sappiamo da un sacco di tempo no? cioè noi pensiamo ci piace credere che il cervello stia lì per farci pensare amare fare le cose no! cioè il cervello serve essenzialmente per farci muovere la dimostrazione più evidente di questo viene da una creatura marina che si chiama una certa specie di tunicati diciamo così che sono animali che durante la loro vita larvale hanno un sistema nervoso primitivo e si muovono nuotando poi ad un certo momento trovano una una roccia un qualche cosa su cui attaccarsi diventano adesi alla roccia e a quel punto passano a diventare creature sessili cioè come le piante e la prima cosa che fanno è di liberarsi del sistema nervoso dal cervello lo digeriscono praticamente se lo mangiano perché non gli serve più naturalmente voi sapete che questo è considerato come dire il paradigma della condizione del professore universitario no? cioè che quando raggiunge la cattedra la prima cosa la prima cosa che fa di solito è liberarsi del cervello perché non gli serve più a questa malignità del del mestiere allora perché il movimento è importante rispetto alla definizione diciamo così della della consapevolezza della distinzione fondamentale tra il me e il fuori di me per una ragione molto semplice che quando voi vi muovete in modo attivo vi trovate di fronte al problema che un filosofo di tanto tempo fa del settecento che si chiamava Thomas Reed chiamava la doppia provincia dei Sengs cioè il fatto che ci sono cose che succedono a me e cose che succedono là fuori e sembra difficile capire come facciamo a distinguerle considerate questo caso semplicissimo io allungo la mano e vado a toccare questo tavolino qua supponiamo e ovviamente c'è una stimolazione tattile precisa qui sul mio polpastrello supponiamo però che il dito fosse fermo e che il tavolino è mosso da qualcuno di voi viene a toccarmi stessa identica stimolazione tattile come faccio a discriminare a distinguere i due casi guardate che in alcune circostanze è importante fare la distinzione l'esempio classico è molto noto nel nostro campo è quello dell'ombrico del verme io prendo l'ombrico lo tiro fuori dal terreno e lo tocco con un dito se vi fa schifo toccatelo con un bastoncino non importa e vedrete che l'ombrico manifesta una reazione difensiva si contorce si tira indietro eccetera niente di strano la stimolazione tattile produce una reazione di difesa benissimo però c'è un problema che quando il verme è sottoterra e si muove è continuamente stimolato tattilmente dal terreno che gli sta attorno come mai non è impegnato in una perenne attività di difesa non è semplicemente una questione di adattamento perché perlomeno dovrebbe mostrarlo inizialmente la differenza fondamentale tra le due condizioni ovviamente è che nel secondo caso è il verme che si muove e non il verme fermo e voi che lo toccate noi conosciamo dagli anni 50 il meccanismo fisiologico che sta alla base di questa che rende possibile la distinzione anche se era stato inventato e scoperto per ragioni diverse e la sua individuazione legata al lavoro di questo signore qua che non conosce quasi nessuno era un collaboratore di Lorenz Conrad Lorenz anzi era il capo di Lorenz perché un'altra cosa che non molti sanno è che Erich von Holst era in realtà il direttore dell'istituto di Verhalten Physiologie di fisiologia del comportamento a Seivisen nell'Alta Baviera e Lorenz era il vice direttore e Lorenz lo stimava così tanto che quando ha preso il Nobel disse se Erich fosse ancora vivo sarebbe qui con me perché avrebbe meritato anche più di me il premio Von Holst aveva una malattia insomma cardiaca che l'ha portato via quando era ancora giovane a 50 anni circa ed era un uomo assolutamente geniale un musicista e anche si divertiva a fare questi oropteri e cioè a costruire creature volante che simulassero ne vedete degli esempi qua il volo di uccelli di farfalle eccetera ma creature meccaniche vabbè questo per dire del personaggio e lui fece un famoso esperimento che poi è quello che io uso prendo in prestito per dare il titolo al libro con questa mosca non sembra una mosca lo so ma è la famosa mosca drone questi sono ditteri cioè sono proprio mosche che hanno una colorazione che emula quella di una di un'ape di un imenottero però capite che sono mosche perché vedete non c'è lo schiacciamento caratteristico a metà qui nella zona dell'addome e anche se andaste a contarle vedrete che il numero di ali è diverso sono due come accadde nelle mosche e non quattro come accadde per esempio nelle api o negli imenotteri e questo animaletto qua ha un collo molto lungo e molto elastico perché quello che loro facevano era di ruotarne completamente la testa di 180 gradi non gli fa male poi quando viene fissata con un po' di colla al torace e poi quando togliete la colla la testa torna a posto e loro tornano felici come prima perché 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 lo faceva beh perché c'è una reazione che abbiamo anche noi che si chiama reazione optocinetica che ci consente è di mantenere il mondo stabile no? per cui se ci mettono in un tamburo rotante questo gira noi ci muoviamo in maniera tale da mantenere l'ambiente visivo costante però questa mosca qua con la testa rovesciata in questo modo si ritrova a vivere una situazione come si usa dire di feedback positivo rovesciato cioè il movimento correttivo lei lo fa nella direzione sbagliata perché la testa è rovesciata i 180 gradi e siccome nota che è sbagliato tende a correggiare ancora di più e più corregge più si trova incasinata e il risultato è che dopo un po' la mosca è tutta lì attorcigliata su se stessa incapace di muoversi però ripeto quando la scollate la testa dal collo torna felice come prima allora questa cosa qua ha fatto venire in mente a Von Holst una idea e cioè lui ha detto non potrebbe essere che tutte le volte che il cervello invia un comando motorio ai muscoli oltre a quel comando lì principale che tutti conosciamo viene inviato un secondo comando in copia carbone al sistema sensoriale che serve ad avvertirlo del fatto che quello che potrebbe succedere di lì a poco e cioè un qualche tipo di stimolazione sensoriale è in realtà prodotta dal tuo stesso movimento e questo risolverebbe il problema del verme il problema dell'ombrico ma non solo spiega ed ecco il perché del titolo della conferenza di oggi spiega perché non possiamo farci il solletico da soli ci avete mai pensato no? allora se andate lì con la vostra mano e fate voi il movimento e vi toccate sotto l'ascella non sentite solletico ma se lo fa qualcun altro molto probabilmente sentite solletico come mai? spesso per questo tipo di cose vengono sollevate argomentazioni psicologistiche complicate del tipo l'altro la socialità i neuroni spec no è fisiologia semplicissima perché in un caso tu fai il movimento e quindi quel movimento è associato a una copia corollaria cosiddetta una scarica corollaria che viene inviata alla corteccia somatosensoriale e cancella il segnale di solletico tant'è vero che lo potete ottenere con un piccolo trucco l'ha fatto una collega inglese immaginate di avere un meccanismo collegato con una piuma che vi fa che so vi tocca sotto la pianta del piede e voi lo azionate meccanicamente ma con molta distanza no? quindi c'è un braccio così e voi fate così e in questa condizione non sentite solletico perché anche se c'è distanza siete comunque voi che avete inviato il segnale ma se con un qualche trucco elettronico voi introducete un delay un ritardo tra il vostro movimento e quello della piuma bastano 100 millisecondi a quel punto sentite solletico perché ingannate il meccanismo di copia efferente di scarica corollari date che solletico non è una cosa che abbiamo solo noi no? si manifesta nei ratti lo sappiamo da un sacco di tempo ai ratti piace tantissimo essere solleticati al punto che vedete lui insegue la mano perché gli piace e quando la mano sperisce dice dove è andata la mano? fatemela tornare e fanno dei non si sente il suono purtroppo fanno dei suoni ad alta frequenza che sono un po' l'equivalente delle nostre risate e conosciamo un'area del cervello che sembra implicata diciamo così in cui i neuroni sparano in maniera particolare quando si sente solletico allora io credo la storia è un po' più complicata insomma se avete voglia di più dettagli potete leggere il mio libro se volete ma insomma l'idea è un po' questa immaginate che in origine la risposta agli stimoli fosse una reazione corporea locale un po' qualcosa simile a quel che accade con il tatto quando vado a toccarvi in un certo punto lì localmente succede qualche cosa che so la pelle si raggrinzisce oppure che so pensate sotto l'azione della luce che diventa rossa per esempio però è una reazione locale siccome è una reazione locale vuol dire che in origine le risposte erano fondamentalmente azioni movimenti e questa natura originaria di azione di movimento probabilmente viene mantenuta ancora oggi in quella che chiamiamo esperienza cosciente perché perché se era un movimento allora doveva essere associato anche a una scarica corollaria cioè una copia carbone del segnale motorio e questo segnale motorio che c'è oppure non c'è è quello che può essere associato al fatto di sentire qualche cosa che accade a me oppure sentire qualche cosa là fuori nel mondo senza esperienza fenomenica come accade nel nel caso del paziente blind sight il paziente blind sight risponde correttamente in un certo senso percepisce gli oggetti là fuori ma non li sente cioè non ha esperienza fenomenica degli oggetti ci sono delle prove diciamo così indirette che questa insomma questa cornice di idee potrebbe non essere del tutto insensata una viene per esempio dal fatto che ehm è stato sostenuto molto tempo fa da un famoso neurologo Hagrid Jackson che anche la nostra attività di pensiero probabilmente non è nient'altro che una forma di azione eh che avviene come dire internamente ehm però se è davvero un'azione se i pensieri sono azioni allora ne deriva il fatto che probabilmente associati a questi movimenti ci sono delle copie carbone e che cosa succede quando per qualche ragione la copia carbone non funziona più provate a pensarci eh quando vi stendete sul letto e siete stanchi e lasciate che la mente vagoli liberamente vi vengono in mente le cose più strane e vi capita di dire ma chissà come mai penso a questa cosa però c'è una cosa che non vi viene mai in mente di dire e cioè che quei pensieri non siano i vostri sono strani nei contenuti eccetera però vi appartengono sono i vostri pensieri ora provate a immaginare una circostanza in cui i pensieri vostri voi non li sentite più come vostri questo accade o potrebbe accadere se il meccanismo di scarica corollaria di copia efferente non fosse più in funzione e questa per esempio è la condizione che è stato ipotizzato caratterizza certe forme di schizofrenia perché se tu hai un pensiero e quel pensiero non lo riconosci come più tuo l'unica risposta plausibile è che stai sentendo delle voci che altri stanno pensando al posto tuo no? e quindi il delirio dei cosiddetti delle cosiddette sintomi positivi della schizofrenia c'è un altro tipo di evidenza tra l'altro non so se sapete ma in certe forme di schizofrenia il paziente è in grado di farsi il solletico da solo non solo nelle forme gravi ma anche diciamo così nelle forme intermedie è possibile e questo tornerebbe molto bene con l'idea che la schizofrenia sia in primo luogo un disordine dei meccanismi di copia efferente di scarica corollari non so se avete mai sentito parlare di questo signore qua si chiama Wilder Penfield è stato un eminente neurochirurgo a McGill ed è quello che per primo ha messo a punto le tecniche per curare i pazienti epilettici con interventi di neurochirurgia e per fare questo lui doveva in primo luogo identificare i loci i punti da cui origina diciamo così il fuoco epilettogeno vi faccio vedere però senza senza l'audio mi sa che vediamo se per caso ha ripreso a funzionare no vabbè ve lo racconto semplicemente una delle prime pazienti di Penfield ma è una cosa abbastanza comune prima dell'attacco epilettico sentiva un odore nel caso specifico del filmato sentiva odore di tost bruciato e durante l'operazione quello che il chirurgo fa ma si fa anche oggi di routine è di stimolare con un piccolo elettrodo con un po' di corrente elettrica porzioni diverse della corteccia e quello che succede è che voi evocate una serie di sensazioni il paziente ti dice ah mi sembra dottore che mi abbia messo dell'acqua in mano oppure dottore mi ha fatto alzare il braccio oppure appunto ah sento odore di tost bruciato e lì appunto è il fuoco epilettogeno nel caso di questa paziente la cosa però che spesso non viene sottolineata in questi in tutti questi esempi è che i pazienti in queste condizioni non riferiscono mai quello che sentono quello che fanno alla loro volontà ti dicono sempre dottore mi ha fatto alzare la mano oppure dottore mi ha fatto sentire questo odore eccetera eccetera anche per esempio nei casi famosi di recupero delle memorie quando vengono stimolate le regioni del lobo temporale le persone riferiscono un episodio dicono sono nella cucina di casa mia e sto giocando con mia sorella e sono bambino eccetera e quando gli chiedi però come mai senti percepiti beh dottore è lei che mi fa sentire in cucina eccetera perché perché queste esperienze vengono evocate direttamente nel cervello senza che il paziente come dire le abbia prodotte lui stesso e quindi senza che associata questa produzione motorica in ultima analisi ci sia quella copia carbone di cui vi dicevo e per questo sembrano incongrui c'è un tipo di esperimento che potete provare a fare su voi stessi ma secondo me lo conoscete un gioco bellissimo che fanno i bambini io mi ricordo averlo imparato all'asilo e tecnicamente si chiama effetto konstam e qui la vedete la forma quando quando lo fa il neurologo diciamo così voi dovete semplicemente spingere verso l'esterno il più forte possibile le braccia mentre qualcuno ve le tiene e lo fate per diciamo 30 40 secondi dopo di che il dottore ti lascia e tu devi stare rilassato così e vedrete con assoluta meraviglia le vostre braccia che si alzano così la prima volta fa spavento ecco la situazione assomiglia un po' a quella che vi sto raccontando no? cioè una condizione in cui non siete l'autore della vostra azione e quindi quando voi non siete gli autori della vostra azione quelle azioni lì non vi appartengono quelle azioni lì non sono né coscienti né consapevoli torniamo alla cosa che da cui sono partito diciamo così un po' all'inizio no? e cioè questa idea che alla fin fine per avere esperienza per avere consapevolezza non è che servano tanti neuroni in realtà anche se spesso i colleghi tendono a dimenticarselo abbiamo varie prove di questo e anche soprattutto abbiamo molte prove del fatto che l'attività cognitiva sofisticata non è in alcun modo prova della possesso di esperienza di consapevolezza o di coscienza eh io sono sempre un po' seccato con diamanti degli animali insomma perché utilizzano un argomento retorico che chiaramente non ha alcun senso e cioè ti dicono io stesso come dire sono colpevole perché ho portato un sacco di prove di questo cioè che gli animali delle altre specie sono capaci di fare cose complicate sanno risolvere problemi spesso sofisticati sanno fare inferenze transitive eccetera eccetera e uno dice e beh un animale che è capace di fare queste cose qua per forza è cosciente ma neanche per idea perché noi sappiamo che nella nostra specie un sacco di queste attività complicate come per esempio condurre delle inferenze possono essere fatte in assenza di contenuti esperienziali cioè i pazienti i pazienti soggetti normali scusate lo fanno senza che quelle attività siano accompagnate da coscienza e da consapevolezza quindi non è vero e non è automatico che per avere coscienza e consapevolezza dovete avere sofisticate attività mentali perché le due cose sono totalmente separate e tra l'altro noi questa cosa la sappiamo benissimo la sappiamo benissimo perché per esempio noi attribuiamo lo statuto di persona a creature della nostra specie che magari sono gravissimamente handicappate malate alcune di queste di queste persone non saprebbero risolvere compiti come quelli che in laboratorio fanno le mie api ma non di meno noi le trattiamo con rispetto perché le trattiamo con rispetto non semplicemente perché sono membri della nostra specie anche ma perché pensiamo che sentano qualche cosa che provino qualche cosa soprattutto che sentano che provino dolore che è la cosa più importante di tutte per quel che riguarda la senzienza no? questo che vedete qua è un caso diverso rispetto al precedente non è un caso di idroencefalie ma di idroencefalia che è una condizione diversa e ancora più terribile perché questi pazienti praticamente non hanno cervello cioè mancano totalmente del prosencefalo quindi vedete un esempio praticamente è rimasto per chi insomma conosce un po' l'anatomia è risparmiato soltanto un po' della parte ventromediale occipitale e le aree diciamo così del tronco e il resto non c'è queste persone ovviamente sono gravissimamente handicappate hanno qui quasi insomma bassissimo eccetera però un collega svedese che si chiama Merker che li ha studiate a lungo sfruttando insomma l'amicizia e il sostegno dei genitori di questi bambini che tipicamente non vivono diciamo così a lungo ha raccolto molte prove se volete anedotti che discutibili eccetera ma a mio modo di vedere piuttosto convincenti del fatto che questi bimbi che hanno pochissimo cervello quasi essenzialmente solo tronco encefalico sentono qualcosa provano qualche cosa qui vedete una di queste bambine cui i genitori hanno messo in braccio il fratellino e vedete la sua reazione statica direi alla stimolazione tattile al fatto di sentire il fratellino tra le braccia ci sono pochi dubbi sul fatto che provi qualche cosa che senta qualche cosa almeno per quello che mi riguarda grazie molto per la vostra attenzione